dove cazzo sono venuto da lì ok 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 dove sono venuto io da qui si da qui dai un'arma buona dai vai 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 si 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 che questo one shot ricordo se lo prendo però infatti vedi cazzo one shot però lo devo prendere giustamente e allora caricatore bello allora però io mi ricordo che il jugger do queste parti serve più energia però non so dove sta devo trovare il jugger perchè altrimenti qua crepo e non vado lontano ah si questo è quello che è praticamente bastardone allora ci dobbiamo fare un giro uccidi dei zombie mentre salto non lo farò mai non lo farò mai e ci provo veramente lo facciamo cazzate allora questo qui le esplosioni non ti fanno un graffio no non mi interessa io voglio il jugger che non mi ricordo dov'è era tipo qua vicino ehm no non era qui oh bello guarda il devasto che ci fa qui io amo sta piazzetta però a volte no 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 come saldi 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 no 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 mi piace proprio come arma non mi piace ok allora ok allora dobbiamo trovare fa niente fa ancora i saldi non mi interessa devo trovare il jugger perchè sennò io ho la terra mi servono oggettoni eh non lo so dove è qua il jugger non ricordo eh vediamo andiamo in giro andiamo in giro cerchiamo qua non c'è qua hanno aperto eh non mi ricordo dov'è mi ricordo che era in una zona di queste qua vediamo cerchiamo senza morire perchè se mi arriva uno zombie là dietro e muoio io giuro che lancio qualcosa qualche investignione non ti puoi dicerlo però vabbè ma ci sono quelli che esplodono lì cosini no qua torniamo qua torniamo tutt'altra parte mi sa che mi devo più peggere questo no vabbè va bene questo tanto dov'è esplodere via che appena li tocchi loro saltano in aria infatti però io mi vorrei ricordare uno non c'è il soggetto non c'è ok fermi cos'è torretta robot sii godo oh oh mio dio oh mio dio morivo morivo veramente perchè gli altri due non so dove cazzo stanno veramente ci morivo ho oh oh cazzo io odio questi qui oh che fai dove sto qui eh figo ah mi sa che questa è la cosa dove si cammina no non so dove il giacco cos'è questo? scivola che ti passa, forse ti fa scivolare più lontano oh forse era qui forse era qui non mi ricordo non mi ricordo se era qui no via assolutamente non mi metto ad affrontarlo che cazzo ho rischiato che cazzo ho rischiato che cazzo ho rischiato e qua io ancora non trovo il gioco mi sto girando a metà mappa veramente è infinite lol oh cos'è questo? cos'è? vediamo che figata mi sono appena ricordato che mi arrivano dietro i zombie eh quello lì però non lo voglio affrontare non lo voglio tenere i colpi questo cammino senza giugno eccolo era qui eccolo infatti serve energia e dove la prendo l'energia io? aiuto nooo no non mi dite che è finita così no è finita così va bene allora il 14 che non è male non è male giocare in tre e alla fine da solo diciamo che gioca da solo perché non ero con amici non ero con nessuno aspetta che esco e niente allora ditemi se ne volete un'altra zombatina ho fatto mezz'ora di registrazione forse la vero di dice il video in tre parti non lo so comunque spero vi sia piaciuto e fatemi appunto sapere nei commenti anche con un mi piace se ne volete un altro ancora di video come questo noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi vedete che è tutto bello